Musica Questa stagione è l'evoluzione della precedente, è una cosa che facciamo spessissimo, nel senso che non c'è un tema per ogni collezione, ma è semplicemente quello che immaginiamo che cresce, matura, e si vede nei capospalla, si vede nei pantaloni che sono cresciuti anche in volume, non abbiamo un target ancora ben delineato, nel senso che compra dall'architetto quarantenne al ragazzino che mette da parte i soldi per avere il trench della stagione, siamo cresciuti dell'MTV Generation, ce l'abbiamo forse troppo dentro, la musica che abbiamo ascoltato, i club in cui abbiamo accontato musica, sì, siamo 90, siamo cresciuti negli anni 90.